La Questura li aveva fermati richiedendo un provvedimento di dust for urbano per l'esercizio della professione di parcheggiatori abusivi, ma tre di loro hanno disatteso il provvedimento e sono stati sorpresi mentre continuavano ad incassare soldi dagli automobilisti. Per questo motivo gli agenti hanno denunciato tre parcheggiatori abusivi, tutti salernitani, di 53, 54 e 33 anni, mentre operavano tra Via Roma, Lungomare e Trieste e la zona ospedaliera di San Leonardo. Salerno persegue dunque la linea dura in materia di sicurezza urbana con la polizia impegnata nel contrasto ad un fenomeno particolarmente diffuso, vera e propria piaga della città. L'altro fronte aperto, spesso finito all'attenzione dell'amministrazione locale e del governatore Vincenzo De Luca, è quello della prostituzione. Palazzo Guerra ha reso noti i numeri dei controlli da parte del reparto motociclisti e la polizia municipale nei mesi di aprile e maggio. Ben 336 verbali contestate alle donne, sorprese con appostamente autocivetta, ad esercitare il mestiere più antico del mondo. 65 i clienti pizzicati per i quali è scattata la maximulta, cui si sommano anche 14 denunce per inottemperanza al foglio di via obbligatorio. L'area interessata dai controlli antiprostituzione è soprattutto quella orientale di Salerno, in particolare la zona antistante allo stadio Arecchi.